per dieci minuti. Perché lei, la maggior parte delle volte che è venuto in quest'Aula, è venuto a chiedere di difendere i prodotti nazionali. Qualche volta trascinato da noi, come sulla questione Nutri-Score, prima alla Camera e poi al Senato, ed altre volte, come oggi, con questa informativa sul Prosecco, che anch'io condivido debba essere un tema di assoluta trasversalità. Deba essere un tema di patriottismo. E non solo perché io sono bellunese e quindi affine a quel territorio veneto e friulano, da dove il Prosecco, diciamo così, nasce e si sviluppa, ma anche perché siamo consci che l'infrangere questa regola, che prevede in qualche maniera il sorpasso del diritto, scavalcare il diritto stesso e quindi portarci fuori dal diritto, apre poi una serie di contenziosi che di protetto poi finiscono con non avere nulla. Perché non ci sarà più una dominazione protetta se passa il messaggio che qualcuno in Croazia, e quindi a pochi metri dalle nostre sponde adriatiche, possa registrare un nome che induce in assoluta confusione il consumatore. Perché lei ha citato benissimo i dati dell'export italiano. Sono dati che hanno raggiunto i 50 miliardi e che noi ci poniamo ambiziosamente di far arrivare oltre 80 miliardi. Per la verità è tutto grandissimo merito dei nostri produttori, delle nostre aziende, dei nostri agricoltori, perché sinceramente non è che questa nazione, non per colpa sua, ma anche per chi l'ha preceduta, oggi abbia un piano sull'agricoltura nazionale che possa dirsi fattore di sviluppo e di aumento di quell'export. Su questo lavoriamoci, noi siamo a disposizione. Lo abbiamo sempre detto, noi quando c'è da costruire ci troverete sempre al vostro fianco. E guardi, noi rigettiamo anche le critiche nei confronti dei ministri che non sono competenti per materia. Glielo avevo già detto, glielo ribadiamo. Uno dei migliori ministri, Giovanni Marcora, era diplomato geometra e penso che nessuno qua dentro che conosce un po' di agricoltura non possa dire che Giovanni Marcora sia stato un grande ministro, prima con l'agricoltura e poi ministro dell'industria. Quindi due temi che sono, sì, vicini, ma probabilmente diametralmente a posti. Chi non si ricorda la legge Marcora sulle cooperative, sulla possibilità che le cooperative sostituiscano l'imprenditore in caso di problemi finanziari. Per questo noi siamo al suo fianco, scevri da ogni posizione ideologica, posizionamento ideologico, per tutelare quello che è un bene, frutto della tradizione italiana, tradizione veneta e friulana, che oggi è messo seriamente a repentaglio dal tentativo croato. Lei ha citato bene, come ci abbiano già provato, insomma, e ha citato bene anche certe sentenze della Corte di Giustizia, quella del 9 settembre 2021, che di fatto sancisce il divieto di evocazione di un nome, ma anche prima, nel 2019, dice qualsiasi evocazione i nomi. Quindi il diritto è assolutamente dalla nostra parte. Se mai guardate, ci viene da chiedere come mai l'Europa con noi abbia un atteggiamento possibilista, o meglio con i croati nei nostri confronti abbia un atteggiamento possibilista, mentre ha un atteggiamento di ferma chiusura nei confronti, ad esempio, della Spagna, quando intende, con lo ciampiniglio, quando intende evocare lo champagne. E questo non vorrei che fosse un atteggiamento che deriva dal fatto che l'Europa ci vede deboli oggi. Nonostante qui ci sia un governo larghissimo, con un ricorso alla fiducia che sinceramente è imbarazzante, qua faccio una parentesi, insomma quattro fiducia in 48 ore, sono qualcosa che non si è mai visto all'interno di questo Parlamento. E quindi noi non vorremmo che da fuori fossimo percepiti come quel governo, foste percepiti come quel governo, forte con i deboli e deboli con i forti. Perché questo sta accadendo. Non si spiegherebbe perché oggi l'Unione Europea non si pone di traverso immediatamente rispetto a questo tema e dica ok avete 60 giorni per addurre le vostre ragioni. non vorremmo, Ministro, e non è tutta colpa sua, non è colpa neanche del sottosegretario, non vorremmo che fossimo percepiti come lo siamo stati in occasione del rave party, come quella nazione dove tutto è concesso, dove si può andare. Perché tanto la debolezza di questo governo non fa in modo che si intervenga laddove ci sono 8 mila fattoni che si drogano all'interno di un terreno agricolo. Quindi avremmo dovuto porsi tutti, arrabbiarci tutti nei confronti di quell'orda di illegalità che è avvenuta in provincia di Viterbo. Ecco, io non vorrei che con lo stesso principio mentale per cui tanto in Italia è concesso tutto, noi fossimo percepiti deboli e quindi assolutamente ci si possa infilare come nel burro anche su questioni che attengono alla nostra economia. Perché guardate, ha citato un altro dato che è quello dell'Italian Sounding. Abbiamo raggiunto i 100 miliardi di prodotti copiati. È evidente che è in atto, come per il NutriScore, una forma di discriminazione nei confronti dei nostri prodotti e un tentativo di erodere i nostri mercati. È evidente che ci sono mercati non solo protetti per via dell'origine e della qualità come quello del prosecco, ma anche degli altri mercati dell'agroalimentare italiano che sono notoriamente riconosciuti in tutto il mondo come prodotti assolutamente validi e che quindi battono la concorrenza semplicemente per comparazione. Quando c'è un prodotto italiano su uno scaffale, tutto il mondo preferisce un prodotto italiano. E quindi oggi il prosecco che chiede registrazione di questo nome per un vino che è totalmente distante dal prosecco tradizionale, ammesso che esiste anche un prosecco nella versione fermo che tanto distante poi non va da quel vino, ma quando i croati avranno ricevuto l'approvazione per prosecco, è evidente che tra un anno loro produrranno un vino con le bollicine, ma mi sembra talmente evidente che questo non può essere dimenticato. Allora Ministro, vede, noi siccome siamo un'opposizione patriotica, lo dimostriamo anche oggi ancora, noi le chiediamo di fare un gruppo di lavoro all'interno del suo Ministero che si occupi di questo tipo di difesa, facendosi aiutare anche dalla vocatura. E questo è quello che dobbiamo fare sul contingente. Però attenzione, perché se noi non dimostriamo come governo, come nazione, e qui ci troverete al vostro fianco, un'unità di tenti e una compattezza che non ci facciano percepire come la cenerentola d'Europa oggi accade per il prosecco, domani accadrà per il Nutri-Score, dopo domani accadrà per qualsiasi altro prodotto che si intende svilire, noi siamo costantemente in difesa. Noi oggi abbiamo bisogno di un Ministro della difesa della nazione, questo di cui oggi abbiamo bisogno. E lei è relegato a fare non programmazione, ma sempre a doversi difendere da qualsiasi tipo di attacco. Mi ricorda i sindaci dei piccoli comuni che non riescono mai a fare programmazione, semplicemente per il fatto che devono perdere tutto il loro tempo a difendersi dalle accuse, dalle responsabilità, a volte da un governo o da tanti governi, non solo questo, ostili e che vedono nei piccoli comuni quasi fossero il male assoluto. Ecco, noi vorremmo che lei fosse liberato da queste incombenze e potesse finalmente occuparsi della pianificazione strategica di un settore come quello dell'agricoltura, che è un settore che si chiama settore primario. Non si chiama settore primario per nulla, è il settore primario perché per anni è stato il settore trainante anche di questa nazione e è il settore che oggi vede i maggiori aumenti nell'export, non solo del vino da 670 milioni di bottiglie, a 370 milioni di export. Il prosecco da solo vale 2 miliardi, un miliardo solo per l'export. Ecco, Ministro, il nostro appello è chiaro. Dica all'Europa che metta giù le mani dal nostro prosecco, metta giù le mani dai prodotti nazionali, se lo farà, nelle modalità che ci spiegherà, noi saremo assolutamente al suo fianco. Altrimenti ci troverete ogni giorno qui appungolarla sulle questioni che riteniamo aperte e fondamentali per quella che si dice una nazione sovrana e che sovrana deve essere sia sui propri prodotti ma anche sulle proprie genti. Grazie.